Andiamo a firmare un protocollo con la provincia del Guangdong che ha oltre 100 milioni di abitanti, un protocollo che si basa su già una serie di relazioni che erano avvenute, di collaborazioni dal punto di vista sia sull'ambiente. Chiederemo anche di poter partecipare alla provincia del Guangdong al World Food Forum Research and Innovation, che è una piattaforma che l'Emilia Romagna ha già presentato a Bruxelles, ai paesi dell'Unione Europea, adatti ai paesi internazionali perché ci sarà anche un dopo-expo e noi sul tema della ricerca e innovazione nel campo agroalimentare abbiamo detto che vogliamo investire tanto e poi è l'occasione, mi auguro, di preparare anche, questo è uno dei miei obiettivi, una futura partecipazione di imprese, una visita nei prossimi mesi o nel prossimo anno. Il Guangdong guarda l'Emilia Romagna come una delle migliori regioni dal punto di vista dello sviluppo, della qualità della vita che c'è nell'Unione Europea, anche questo credo sia un fatto molto positivo per chi come noi vuole sempre più essere una regione europea e nell'essere una regione europea tenere rapporti, allacciare rapporti sempre più stretti anche a livello internazionale.